Valeria, innanzitutto le sensazioni, rivedendoti anche ovviamente, perché ieri sera hai rivissuto per la seconda volta, immagino, quello che è stata la proclamazione. Anzi, l'ho rivissuta forse con più partecipazione, forse perché sapevo come sarebbe andata a finire, forse perché semplicemente me la sono goduta di più, anche se il cuore mi batteva a mille nonostante fossero già passati dei mesi. L'emozione è grandissima, essere l'ottavo Masterchef d'Italia, un dono inaspettato, sono contenta di essermelo meritato. Come hai fatto a tenere segreta la vittoria con tutti i tuoi parenti, come hai rivelato, a parte tuo marito che era lì ovviamente? Era lì mio marito, sì, qualche altro elite lo sapeva, però semplicemente mi sono concentrata su altro, sui oneri che la vittoria di Masterchef comporta. L'impegno del libro è stato grande, mi ha assorbita, proprio perché volevo che nonostante il poco tempo a disposizione risultasse un bel lavoro. Quindi devo dire che questo mi ha aiutato un po' a distogliere l'attenzione dalla vittoria, ecco, mettiamola così. Il libro di ricette che esce l'11 aprile rispecchierà quello che abbiamo visto a Masterchef, ovvero tu hai vinto osando, ma anche mettendo tanta tradizione e semplicità. Assolutamente, il libro rispecchia tutto il mio percorso a Masterchef, si intitola Amore, curiosità, istinto, la mia cucina felice e proprio racconta quella che è la mia idea di cucina. Si parte sicuramente dalle origini che per me sono una base solida su cui poter costruire tutto e poi c'è anche la voglia e la curiosità di estendere i confini. Io penso che la cucina sia un linguaggio universale e sia soprattutto senza confini. Un aggettivo per ognuno dei quattro giudici che ti hanno accompagnato fino alla vittoria? Allora, meraviglioso, 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 sono tutti bravissimi. Chef Cannavacciolo molto severo ma anche molto attento, vedevamo che non gli sfuggisse nulla. Chef Barbieri, anche lui si vede proprio la sua passione e quasi lo vedevamo partecipe delle nostre sensazioni. Stessa cosa Chef Locatelli che è stato forse il più sensibile di tutti, probabilmente anche perché era un po' un'iniziazione sua a MasterChef. E infine Bastianich, Mister Bastianich, probabilmente quello che legge o perlomeno cerca di leggere più a fondo nella personalità di ognuno di noi e cerca di farla uscire, il che poi è anche d'aiuto perché ci aiuta a manifestarci in quello che siamo. Cuochi sì, ma anche e soprattutto persone. La Valeria di domani sarà in una cucina? La Valeria di domani sarà sicuramente in una cucina perché forse la più grande rivelazione di MasterChef per me è stata questa, che posso stare in una cucina, sono in grado di farlo, sono in grado di cucinare per gli altri e non vedo l'ora sinceramente di andarmi a collocare, di trovare il mio posto.